Cari cittadini di Rocca di Baba, nonostante il tempo impervio, sono oggi salito qui in cima per farvi i miei auguri e portarvi a conoscenza del fatto che ho scritto per voi la letterina Babbo Natale e ora ve la leggo. Caro Babbo Natale, io lo so che tu non puoi fare miracoli e quindi anche quest'anno la funiculare ce la prendiamo in saccoccia. Però fammi un regalo, la promessa che nel 2020 convincerai Nicola Zingaretti, anche detto, il funiculero a terminare quest'opera inutile dove ci ha buttato 15 milioni di euro. Mussolini la fece in molto meno tempo e invece qui sono sei anni che i cittadini di Gimacarocca aspettano questa funiculare. Ti ringrazio caro Babbo Natale.